ciao a tutti come state speriamo bene oggi siamo qui con voi con un pacchettino da parte di timo allora il pacchettino è qui c'è la scritta guardate il logo timo e vediamo subito i prodottini che ci sono all'interno allora prima di tutto mi sono capitati questi stickers a cuore adesso li apriamo che ve li faccio vedere nel dettaglio allora dovrebbero essere dei stickers per il viso guardate adesso te lo posso mettere a dura così facciamo vedere allora qui guardate guardate che bello è bellissimo beh comunque l'ho messo così alla fretta e furia però comunque avete capito c'è dal più grande al medio e al piccolo poi ho preso un copri fotocamere per l'iphone 14 pro se andate a vedere il video di shin io questo già l'ho preso e mi sono dimenticata di averlo preso anche su timo però comunque è sempre utile poi cosa più grande che ho preso è questa cosa ci sarà in questa scatola vediamo insieme adesso apriamo lo scatolo e vediamo questa volta ragazze non abbiamo preso tantissimi prodotti però quelli la quelli che ci sono questi che ci sono sono carinissimi e comunque a noi timo piace tanto niente ragazze ho preso questa cazzaforte non lo so come la volete chiamare come la chiamate voi per i soldi che mi piaceva tanto perché perché azzurra rosa rosa ormai è rosa anche lei ormai io ho fatto il lavaggio del cervello si chiama azzurra ma veste di rosa vabbè oggi ha la maglia azzurra e i pantaloni rosa si 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 comunque è carinissima è fatta così con le sue chiavi che non so come toglierò perché guardate forse dovresti tagliare così quando dovresti tagliare qua dai amore è tutto ferro come faccio è vero ma sono scema ma è buono lo so ragazzi potevano metterla semplicemente aperta qui dentro così comunque è fatta di ferro ovviamente potremmo mettere qua dentro si beh io adesso non lo so come fare forse bisogna allargare e far passare sì allargare il cerchio e far passare il punto la chiave qui dentro farlo uscire e aprirlo mi dispiace perché volevo farvelo vedere adesso non so se riuscirò vediamo eh ragazza anche lei non c'è riuscita comunque io ho preso questo affarino perché le mie forbicine quando le cercano le trovo mai perché lei e suo fratello mi fanno scomparire sempre tutto vabbè vediamo un attimo se riesco azzurro racconta qualcosa ai ragazzi e alle ragazze mentre riesco vedo un attimo di fare qui ah ragazzi e ragazze sapete che fra un poco c'è la botana quindi aspetto che avete fatto i bravi scrivete nei commenti se avete fatto i bravi allora secondo te te la befana ragazzi ce l'ho fatta ho preso una chiave vediamo se è quella giusta secondo me è quella giusta come è stato sì eccolo qua allora ah questo qui che sarebbe per le monete questo per le monete da mettere in fila 2 euro 1 euro 50 centesimi poi come volete voi e questo per mettere questo sopra e sotto mettete le banconote vabbè io volendo mi piace di più anche solo così tolgo questo e metto il tutto qui dentro vi piace ragazze bellissima è bellissima è bellissima e ti spero questa si ricade in testa vi manda in coma comunque niente ragazze questo era tutto il nostro video di timo e lo so è un po' breve a differenza delle altre volte perché voi ormai ci conoscete e vabbè questa volta è andata così abbiamo solo ci hanno colpito questi prodottini abbiamo preso solo questi comunque se vi è piaciuto il video lasciate un like così ci aiuterete anche a supportare il canale e e attivate la campanella così sarete sempre donato i nostri video ma soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi al canale perché è gratis ragazze cioè facciamo noi compagni a voi voi fate compagni a noi cosa ne dite? niente ci renderebbe più felice oggi non so neanche parlare va bene pardon niente ci vediamo al prossimo video e come sempre vi auguriamo buona giornata ciao amici ciao amici